Ciao a tutti, buona serata, ciao a tutte. Prima di cena volevo capire da voi cosa ne pensate di questa cosa, di questa notizia che stanno buttando fuori i quotidiani, ovvero questo presunto crollo, dopo il caro benzina, le bollette e l'inflazione, questo presunto crollo di Giorgia Meloni, del governo Meloni. Di fatto è la prima frenata di questo nuovo governo e qua parlo proprio di una frenata e di un crollo dei consensi per Fratelli d'Italia, non solo Fratelli d'Italia, si parla anche di Forza Italia. Allora io che devo un vostro parere? Sono curioso di capire la gente comune cosa ne pensi, soprattutto la gente che non è proprio allineata al sistema e che è un po' o che è delusa come me, gente che credeva nei partiti, credeva nella sanità, credeva in tutto due anni e mezzo fa, poi ha capito che era tutto una schifezza e ha cambiato idea. Sono curioso, ciao buonasera Claudio, ciao Claudio, ciao Carla, ciao Fiore, Fiorella, Elisabetta da Piacenza, abbiamo Flora, ciao cara Flora, ciao Roberto, ditemi anche da dove siete, Elisa, Elena, abbiamo Marisa, buona serata anche a te, fanno tutti schifo dice Flora, Flora va giù pesante, fanno tutti schifo così diretto, tac e via, ci appassò e porta a cadere Flora. Allora andiamo a capire, il sondaggio, ci sono vari sondaggi, in questo caso il sondaggio è di poi, premettendo chi crede nei sondaggi, chi non crede nei sondaggi, però ne stanno parlando e io proprio per questo vorrei chiedere a voi, perché per me il miglior sondaggio è la gente comune che risponde. Voi, chi è con la Meloni, pollicione, chi invece dice che non si fida più, è deluso della Meloni, la faccia inarrabbiata, molto semplice, ci sono due pusantini, a prescindere che uno abbia votato, meno la Meloni non c'entra, qua parliamo di una fiducia al governo in via trasversale, quindi non è una fiducia data dal voto, ma è data da quello che sta facendo il governo. Sono curioso, dopo una crescita costante, in questo caso è il fatto quotidiano, ma un giornale vale l'altro perché più o meno sono tutti elineati. Dopo una crescita costante da quando è a Palazzo Chigi, la premia registra, la prima battuta ad arresto, dicono, la rilevazione di Euramedia Research per la stampa segnala un calo della fiducia nei confronti della Presidente del Consiglio e del suo esecutivo, ma anche un leggero calo nei sondaggi. Crescono le opposizioni, Movimento 5 Stelle, secondo questi dati sarebbe la seconda forza e il PD risale di un 0,9%. Questa cosa del PD, che il PD risalga di un 0,9% già mi suona e mi puzza di bruciato, perché posso capire il Movimento 5 Stelle che sta facendo una battaglia per la povertà, per il reddito, ma non dubito il PD, perché il PD che voterebbe oggi? Vabbè. Detto questo, Giorgio Meloni ha provato anche a citare Garibaldi per rilanciare l'azione del suo governo, ma qui si fa l'Italia o si muore, ha detto Giorgio Meloni. Poi è arrivato anche l'alto là degli alleati e agli alleati, basta mettere i bastoni fra le ruote, quindi gli alleati hanno un po' rotto le scatole, parliamo di Salvini e Berlusconi, e la Meloni ha detto chiaramente basta rompermi le scatole. Il passo falso è dovuto, si dice, del suo esecutivo alla gestione del caro Benzina, che ha fatto una figuraccia, si è insediata a Palazzo Chigi e con questo, con diciamo delle promesse del passato, dicendo toglieremo l'acciso, ovviamente è stata un po' una mossa che ha portato tanto sfiducia. Quindi avete due possibilità, dovete votare con questo sondaggio interno nostro, con il pollicione in su, se siete con Giorgio Meloni, col governo attuale, la faccina arrabbiata se ritenete invece che non vi fidate più e siete contro questo governo. Però in sostanza qua è confermato che la Meloni registrerebbe un calo di fiducia nei suoi confronti e nei consensi verso il suo partito. Una frenata raccontata nel sondaggio del 10 gennaio di Euromedia Research per la stampa. L'istituto dirato da Alessandro Ghisleri segnala che con il nuovo anno la fiducia nei confronti della premiera Meloni è scesa di 1,4 punti percentuali, che non è poco perché ha perso l'1,4% dalle 39,9% di consenso al 38,5%. Allo stesso modo anche il governo ha perso il 2,5% passando dal 39,2% al 36,7% di consenso. Quindi poco più di un terzo degli italiani, attenzione parliamo di un consenso veramente basso in caso. Un calo che si riflette anche nelle intenzioni di voto e tutti i partiti del centro-destra perdono potenziali elettori. È già la fine della luna di miele tra esecutive e cittadini. Questa è la domanda che si pongono. Non ancora secondo Ghisleri che sottolinea però come l'aumento delle bollette e la corsa dell'inflazione ci siano fatti sentire in questo sondaggio a favore o contro il governo. L'80%, per la precisione, l'80,5% degli intervistati ha percepito una crescita del costo della luce, il 77,5% del gas e addirittura il 94,4% della benzina. Quindi ci siamo in sostanza accorti tutti, accorti tutti di quello che è l'aumento. Il caro carburanti di inizio 2023 con lo stop al taglio dell'accise è arrivato in questo contesto e quindi anche in termini di consenso rappresenta il primo vero ostacolo per il governo Meloni. Oltre a un italiano su due, in sostanza il 50,3% boccia l'esecutivo Meloni nella gestione dell'inflazione, del caro vita e del caro bollette e ovviamente del caro benzina. Non solo, appena il 26% degli intervistati, secondo Ghisleri, promuovono l'azione di Palazzo Chigi su questi temi. E tra gli scontenti ci sono anche un 12,1% di elettori di Fratelli d'Italia e un 14,8% di leghisti e un 27,7% di sostenitori di Forza Italia. Vabbè, il malcontento è generale. Crescono il Movimento 5 Stelle, secondo questo sondaggio e cala Italia viva. Poi meno male i dati sono quelli che vi ho già detto. In sostanza calano solo i partiti di centrodestra, i Talexit rimano uguali, che non è più i Talexit ma è paragone per l'Italia e basta. Ci tenevo. Io vorrei un vostro parere. Vi fidate della Meloni? Siete delusi di quello che ha fatto fino adesso? O vi fidate, siete contenti? Avete due possibilità. O il pollicione o la faccina arrabbiata. La faccina arrabbiata ovviamente rappresenta la non fiducia al governo Meloni. E poi c'è il MES, dice Maddalena. Lo so, lo so, Maddalena. Vabbè, ci tenevo a fare queste due chiacchiere con voi perché è un tema importante. È già un crollo del governo, è già un malcontento generale. La gente non è più col governo. È una notizia assolutamente da appurare e da capire. Votate con questo sondaggino interno nostro. Sono veramente curioso di capire cosa ne pensi la gente di questo governo attuale. Ciao a tutti e buona serata.